Ciao a tutti i salmoni e bentornati nel nostro canale! Ciao a tutti i salmoni e bentornati sul mio canale! Come ben sapete è cominciata la season 6 su Fortnite e quindi cosa andremo a fare? A scioppare il pass battaglia Battaglia reale Allora, ecco il filmato Giustamente la banana dice di vieto E' vietato nuotare perchè il lag è diventato tutto strano Che succede? Il cubo non si era sciolto, era solo sprofondato Ovviamente una scena cazzona ci sta tutta In tutti i Fortnite c'è sempre un filmato cazzone Cosa avrà portato questo cubo nella nuova season? Adesso lo vediamo Pass battaglia stagione 6 R1 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 Aspetta cosa c'è dentro? Quando il pass... Ok Arrivano i piccoli amici Aumenta il livello del pass battaglia per sbloccare Ok 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 Oh DJ Wander è il primo personaggio Ah Questa si evolve Questa dovrebbe essere quella Sì ho capito qual è Ok Andiamo ad acquistare il pass battaglia Abbiamo tra 7 giorni nuove sfide Abbiamo col pass battaglia disponibile di nuovo una nuova skin Tra quelle da fare Ovviamente tra 63 giorni Dura 69-70 giorni come sempre più o meno Andiamo ad acquistare ovviamente il pass battaglia Andiamo ad acquistare quello classico Boom baby Cosa abbiamo sbloccato col pass battaglia? Boom baby 12 oggetti Incremento XP del 50% Cosa che ho sbloccato col pass battaglia quello vecchio 10% Amico Ok Eccolo qua DJ Wander Uno dei miei preferiti Questa era un indeciso Sfide del pass battaglia Sfide calamity Che non so cosa cazzo la sono Altri 10 punti di incremento 10 punti di incremento XP 5 livelli gratis Icona standardo Ok Calamity Chiudi Ok hai 100 vivac Aspetta non avevo sbloccato 5 livelli gratis Scusa Scusa No Allora armadietto Negozi oggetti non mi interessa armadietto Andiamo ad equipaggiare subitissimo Il tizio caio qua Allora mettiamo Questo Tra i preferiti E lei Tra i preferiti Ovviamente Useremo quasi sempre Yunder Cosa abbiamo qua Ok questo 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 me l'ha dato con Col fatto del pass battaglia vecchio Anche questo Vabbè insomma pass battaglia vecchio abbiamo fatto parecchie cose È stato il livello 70 il record che abbiamo fatto finora Vatta n'affanculo tu Che mi stai guardando Che sei uno stronzo Che mi disturbi sempre quando sto registrando cazzo Mi hai rotto i coglioni Pure la notte non mi fai dormire Perché mi invi le richieste del cazzo Sappilo Sfide giornaliere ok Poi abbiamo sfide suggerite Perché abbiamo già Le sfide del pass battaglia Sì abbiamo già le sfide da prima settimana ragazzi Quindi Quindi Il secondo video che vedrete Sarà Un video per fare un po' di 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 sfide insomma per giocarcela un po' Ah Ma è bellissimo Ah Ma è bellissimo Io devo ancora finire Ragnarok Però vabbè Un altro discorso Quindi niente Questo è il pass battaglia quello nuovo Noi abbiamo i vivac per comprarci un livello Ma non credo che Serva nulla a farlo Ah Per questo mi aveva dato Ok ok Quindi non credo che serva nulla Comprarsi questo Anche se in realtà In realtà sto nel tabla non mi piace Non serve a nulla Comprarsi questa cosa Ehm Ah ok Quindi ci potremmo portare un animale dietro Va bene Vediamo gli altri oggetti che ci saranno su questo Aspetta Questo si può evolvere Come si può evolvere? C'è scritto che si può evolvere? Ok Ok Quindi Altri emoticon Uh Figa sta scia Vabbè Schermate di salvatori Eccolo Uno dei personaggi più divertenti di questa season Poi abbiamo Incredento Va bene Queste sono tutte cose che dovrei in realtà Ancora Sbloccare E In questa season Oddio questa è una cosa fighissima Bellissimo sto piccone E in questa season mi impegnerò Ancora di più Rispetto alla season scorsa Per Migliorare E giocare sempre meglio Bello Ok ho trovato quale sarà il mio Deltaplano preferito Ho trovato anche il mio personaggio preferito in realtà Oddio Anche animaletto preferito forse No vabbè Tutte e due sono belli Emoticon del K Fiaba Saperebbe Capucetto Rosso Lail Eviterei E eviterei fortemente questa cosa Sai Uh Cosa il fulmine Vabbè schermata Il gatto Sti cazzi Il gatto Carino Belle le ali Belle L'ho sempre volute Però Non shoppo Cose Che ritengo Cioè non ho inutili Oddio che figata questo Però cose per cui Inutile spendere i soldi Ma che cazzo standardo è Ok i balli non sono entusiasmanti Va bene Va bene Ci sta Perché tutto a tema di Halloween Ed eccola lei Tramonto È bellissima È bellissima La voglio cazzo Devo arrivare al livello 70 Non me ne frega niente Devo giocare giorno e notte Ok In realtà i animaletti tutti sono belli Che dovrei fare col pomodoro Vabbè non male Fighissimo Vabbè una scena molto simile a quelle delle scorse season Ah ti danno il mantello Beh sto personaggio in realtà Non è che mi dispiace però Non bisogna neanche tanto Quindi non c'è alla fine un personaggio Sta molto prima Ok perché se io non sbaglio A scorsa season Ragnarok stava proprio a livello 100 Invece questo sta a livello 86 Perfetto va bene ragazzi Io vi ringrazio Vi saluto Mi piace Iscrivetevi Lasciate un commento Vaffanculo Baccagi Trattino basso 20 Perché mai già Scassato i goglioni Qualche giorno fa E mi hai scassato anche oggi La prossima volta Ti blocco pure Sul Su Gli amici di Epic Ciao raga Al prossimo video Ciao 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 Ciao